ciao creatura io sono ecco di splendente e benvenuta o bentornata nel regno di cusai e s m r fuori può allora questo maglione fa questo persuono questa sera proverò a realizzare un make up stile mercoledì adams ovviamente ho visto la serie ovviamente ho il mio punto di vista che sicuramente non piacerà comunque diciamo che mi è piaciuta se vista come una serie per adolescenti onestamente a me lo stile di Tim Burton piaceva piace diciamo a me piaceva a Tim Burton prima che andasse di moda davvero però non è una battuta non è un meme ma è proprio così perché all'inizio non se lo filava nessuno e piaceva solo a me tra virgolette poi sicuramente c'è qualcuno che dice la stessa frase però vabbè e però ci sono tante persone che dicono di apprezzare Tim Burton poi non conoscono dei primi film e non ho idea di cosa siano e da lì si capisce un altro tipo di stile che avrebbe lui però diciamo che sia un po' commercializzato per i motivi che sappiamo tutti non si piangono di stare qua a dirle quindi vabbè ci sta altrimenti non sarebbe piaciuto a tutti adesso invece piace a tutti e cioè mi fa piacere per lui perché ha fatto successo però ha perso un po' alcuni dettagli che gli piacevano del suo stile senza offendere nessuno perché su youtube basta dire una cosa e ti mangiano viva perché hanno sempre interpretazioni loro ecco chi ama Tim Burton da prima che diventasse famoso avrà capito di cosa sto parlando gli altri di pazienza insomma non offendetemi comunque ehm il di per sé visto come una serie per teenagers mi è piaciuto ecco perché no direi anche se io non riesco a vedere quel come se lì non riesco è troppo brutto per me io sono rimasta innamorata love tanto love per me questa è la famiglia Adams nella mia testa cioè sono bellissimi così cioè hanno una bellezza particolare che vabbè comunque non so come altro spiegarmi comunque per me quella è rimasta nella mia testa la famiglia Adams e quindi quando vai a cambiarmi gli attori un po' dico poi quel come se lì è troppo brutto cioè per quella mortisia cioè capito invece quelli lì avevano entrambi una bellezza particolare un carisma particolare e per me quegli attori lì erano stati scelti perfettamente anche Cristina Ricci in mercoledì e Buxley quindi cioè per me era quella la famiglia Adams ha tutti gli effetti però bella anche la serie dai ci sta allora vediamo io ho spostato un po' di quell'acqua priming base base e quella solito che lo sto finendo dovrò ricomprarlo questo fondotinta qui della Revolution Makeup e perché ho così finito e mi ci sono trovato molto bene del mio colore resto comunque dell'idea che vorrei imparare a fare un contouring e prima o poi ce la farò comunque ho visto su c'è la mia idea comunque di mercoledì ecco una semplice base si sto sparando un sacco una semplice base bianca cioè bianca chiara non ho uno specchietto quindi adesso mi vado a specchiare su una palette una di quelle palette che mi hai visto in qualche video fa di solito bagno la beauty blender non sono in bagno quindi non ho la possibilità adesso di di farlo anche la beauty blender è da buttare devo buttarla assolutamente e comprare una nuova farò un 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 acquisto di make up da qualche parte non so se prendere su qualche sito o su o in qualche negozio non lo so perché devo vedere questi qua questi make up qui dove li trovo perché mi sono stati regalati quindi mi devo un attimo informare tra virgolette organizzare anche allora farò dei baffi c'era Hitler qua molto sexy spoiler a gennaio uscirà un video dove mostro i miei regali i regali di natale che ho ricevuto e spoiler mi hanno regalato uno scrub che non vedo l'ora di utilizzare cioè deve essere tipo wow quando l'ho visto l'hanno usato e l'ho provato su una mano ho pensato no io mi sento che ho bisogno di usarlo tantissimo di solito uso lo scrub quello del lì della Sienna però un po' rotto cioè sempre usare le stesse cose mi annoio e poi la profumazione è uguale a quella del detergente viso invece questo cosa che mi hanno regalato non vedo l'ora di mostrartelo creatura cioè c'è un fantasma guarda sono fantastico un fantasma guarda come sono cadaverica così che è lo stesso colore tra l'altro del mio collo originale è in faccia che ho delle macchie strane che mi quando tempo fa facevo video senza truccarmi oppure mi truccavo ma non mi ero cioè non mi mettevo mai una base di fondotinta e la non è stata criticarmi dicendo che faceva schifo vedere le macchine del mio viso che doveva mettermi un fondotinta e voilà ho iniziato a mettermelo e tutti contenti i problemi della vita erano le macchine della mia faccia capito? e vabbè allora adesso ci dovremmo mettere tipo un contouring contouring non so ancora l'aggetto dove va io direi che secondo me dovrebbe fare un contouring contouring come suona meglio così contouring 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 vabbè freddo allora sto andando malissimo a truccarmi senza specchio e con le cuffie ma non mi importa perché lo faccio volentieri mi sto molto divertendo qui con te creatura e prendo un colore a caso da una palette che non ti mostrerò perché non c'entra niente col contouring 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 e però pensiamo che sia un colore giusto freddo per appunto fare non so neanche se si veda mi sembra di no comunque dettagli allora non sto vedendo nulla aspetta l'effetto che vorrei dare è di un volto scavato non so cosa sto dicendo perché non ho le cuffie c'è il mio normale trucco praticamente no non è vero di solito metto il blush vedi per quello devo imparare a fare devo cioè imparare a fare contouring 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 che sono tipo scusa chirurgia plastica non ho un make up per essere più carini questo l'abbiamo capito allora poi io penso che vorrei tipo rendere più cupo il mio sguardo quindi vorrei tipo un po' qua tipo marroncino marroncino anche con lo stesso colore più o meno non è lo stesso colore perché forse quello era meglio beh mischierò due tipo tipo marroni freddi ehm un make up freddo questo invernale ah battuta allora è bello ma cavolo mi sta pure bene bello suono del pennello mi ha messo un botto bellissimo sto suono cioè poi con questo pennello abbiamo molto bene questo questo qui questo qui questo qui poi andrei a metterci un po' di questo colore qua che rovinerò tutto lo so già non importa è una specie di grigio lillo che ho mostrato in un altro video sempre quello del palette se non l'hai visto c'è c'è ci sono le campane che suonano molto bene sto cercando di ricreare una specie di colore mmm semi naturale ma tipo cadaverica e glam ovviamente io oggi metterei anche un bel tavolo glam che non c'entra nulla ma ci sta bene con il cadaverico glam si si non so come spiegarlo ma per me è molto senso questa cosa che ricrea un po' un colore di un ematomo ma deve essere una cosa un po' creepy macabra 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 sono più mordisi anche i mercati poi andrei a a brunire le mie sopracciglia tutto con lo stesso pennellino perchè non ne ho altri che in questo momento quindi ci arranciamo d'accordo d'accordo va troppo nire ehm non so perchè le ho fatte marroni e sembrano rosse e hanno rovinato tipo tutto tutto quanto con questo che mi hanno confuso io non ho genere mi dissocio comunque dovrei tipo fare una specie di cold drink sotto al noso perchè non mi piace questo e quindi uguale a prima essenzialmente uguale a prima e uso sempre questo qua perchè è il mio preferito quello da unicorno mi sembra di aver accentuato di più i miei zigomi e di aver scavato di più forse però con queste sopracciglia saprò il grinch però adesso facciamo la pettinatura vediamo che cosa ne esce sono soddisfatta neanche un po' neanche un po' ma ci proviamo ok poi un po' un po' mi sembra dei baby hair cosi sparsi nella spazzia promuovere ma dovrei avere la riga in mezzo ma mi sembra la riga in parte su sta cosa vabbè fa niente allora che vediamo premesso devo farlo senza guardarmi allo specchio quindi non so cosa verrà fuori ok sono uscita dal mondo di patti ma vabbè dettagli 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 i vicini che urlano no 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 non c'erano in testa questa canzone da quando c'erano messe un video di marcoli di che balla e dopo su tiktok hanno messo de questa canzone che non e non è quella del balla però mi fa cioè ci è piantata in testa capito una cosa non troppo che si pianta in te non tenere liberi più così vabbè comunque un video c'è un video che vuoi provare a farmi wolf cut che poi è così o così cioè i capelli davanti secondo te sto meglio i capelli davanti ho le orecchie ho i capelli dietro io di solito me li faccio così così accendo un sacco quell'effetto che ho dato così cadaverico allora adesso ci sarebbero state bene un po' di tipo mascara ma non avendo le ciglia che ce lo metto a fa' cosa ce lo metto? cosa ce lo metto? e quindi niente ma ma non so neanche cioè siccome l'ho tipo pensato però improvvisato alla fine è uno stile tipo acqua e sapone però un po' cadaverico e non dimentichiamo la parola glam fatto senza uno specchio direi che mi è anche uscito troppo bene e quindi io mi auto metterò un like poi tu creatura fai come vuoi se vuoi mettermi un like grazie mille auto metto perché alla fin fine non è così male è malaggio poteva andare molto peggio 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 io con questo video ti saluto ti auguro buonanotte buon relax ciao creatura grazie mille